La sesta e penultima concorrente della mattinata è Liu Pangli, di nazionalità e cittadinanza cinese, eseguirà nell'orgue di Bach ciaccona dalla seconda partita in Regnone. L'Ibizar stude numero 18, variazioni ad agio, monso ritmico e marcato dalla tecnica superiore di Torino e Mozart, concerto in re maggiore K4218, primo movimento e cadenza di Bachini. Al pianoforte Ingar Zekzak. Penultimo, penultimo. Penultimo, penultimo. Penultimo, penultimo. Grazie. 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 Grazie.